Carissimi, vi aspettiamo alle Doi Anni il 6 agosto alle ore 19.30 su questa spiaggia per vivere insieme nuovamente la festa a mare di San Giuseppe, patrono della comunità parrocchiale della città di Letoiani. Una festa che rivivremo dopo quasi vent'anni, è una festa che verrà preceduta da un concorso canoro che avverrà proprio alla piazza Caglio, una piazza che si trova un po' distante da questa spiaggia e che è stato realizzato proprio per rilanciare questa festa. Noi vi aspettiamo perché tutto questo è stato preparato insieme da tantissimi parrocchiani, da tantissime persone con l'aiuto dell'amministrazione comunale, con l'aiuto di tutto quello che fa parte di Letoiani. Adesso mancate solamente voi. A presto.